L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24. Contattaci al numero in sovrimpressione. Torniamo a parlare della tanto discussa ciclovia di Corso Palatucci. Negli scorsi giorni, infatti, abbiamo parlato dell'introduzione di una zona 30 volta a far convivere pedoni e ciclisti nella medesima area. Ieri, il consigliere di Fratelli d'Italia, Pasquale Senatore, ai nostri microfoni ha rilasciato alcune dichiarazioni circa le perplessità del gruppo consigliare al riguardo. Tra le questioni sollevate, quelle relative al parere di viabilità, le difformità del progetto rispetto all'opera e la mancanza di un impianto di irrigazione. A tal proposito, abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore. Allora, questo è stato un argomento molto dibattuto, come dicevo in Consiglio Comunale. Abbiamo dato risposte, penso esaurienti, al consigliere senatore che ha fatto anche un po' la cronistoria di questo intervento, quindi chiedendo delle cose che comunque facciamo meglio, facendo delle azioni che alla fine non hanno portato a nessuna conclusione. Voglio solo dire, per rassicurare anche i cittadini, che noi abbiamo partecipato a questo bando che prevedeva la istituzione o di una ciclovia o di una pista ciclabile. Abbiamo optato per la ciclovia, una strada che permette di avere la commissione tra veicoli a scoppio e insieme anche a biciclette. Abbiamo, grazie a questa prima fase, quindi questo frenzamento di circa 170 mila euro, siamo in condizione di partecipare a un bando molto importante di circa un milione di euro che prevederà questo intervento fino all'edificio comunale. Questo permetterà appunto, innanzitutto, di mettere a posto una strada, una terra fondamentale che è via Marconi, quindi Corso Paraducci via Marconi, ma anche di istituire questa commissione, quindi fra biciclette e anche fisico-ascoppio, anche elettrici. È una cosa molto importante che ha riquirificato la porta nord della città, che era una zona molto abbandonata, quindi con una strada disconnessa e quindi non potevamo fare almeno di utilizzare questo frenzamento e l'abbiamo fatto nel miglior modo possibile. Ecco, quindi questa sarebbe anche un po' la soluzione al problema degli incidenti? Sicuramente, nel senso che con la zona 30 è stato dimostrato che si riferivano meno incidenti, è una cosa molto dibattuta, abbiamo visto anche delle trasmissioni intere che hanno quindi trattato questo argomento e alla fine si è visto che comunque con una riduzione della velocità saranno anche meno incidenti. Abbiamo istituito sui vari incroci, su salvo d'acquisto, ma anche su via Talamo delle Rotonde, anche allora tanto criticate, che però hanno ridotto, se non azzerato totalmente, il numero di incidenti, quindi le intersezioni quindi sulla strada. Quindi è una cosa che abbiamo quindi a cuore, dobbiamo intervenire su via Castaldi e su via Matteo della Corte per fare in modo quindi che anche quei tratti di strada possono essere anche più sicuri.